Torneranno in piazza domani per far sentire ancora una volta la propria voce ma soprattutto per far conoscere eventuali nuove iniziative. Il coordinamento pubblico impiego dell'Unione Sindacale di Base si dice allarmato dal sostanziale silenzio da parte dell'amministrazione comunale in merito a quanto garantito nel luglio scorso per quel che riguarda la vicenda dei lavoratori precari dei servizi educativi del Comune. Dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale delle norme regionali che sembravano aver regolamentato le assunzioni la Regione aveva emanato una serie di norme ad hoc che sembravano aver risolto il problema tanto che vi erano state precise assicurazioni da parte del Comune sulla piena operatività dei servizi a partire da settembre e sulle procedure per assumere e stabilizzare quei lavoratori che altrimenti si sarebbero trovati in strada e la cui opera risulta fondamentale per il funzionamento di quell'ingranaggio della macchina comunale. A tutt'oggi, a pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, secondo l'USB non è dato sapere nulla sui contratti, se le risorse siano sufficienti, quando il servizio potrà iniziare. Dunque, per sollecitare risposte chiare e precise, domani ricomincia la mobilitazione.